FICO festeggia Halloween tra gusto e divertimento. Saranno proprio questi gli ingredienti principali della festa horror più attesa dell'anno, organizzata all'interno di FICO, il parco tematico di Bologna sul cibo italiano, che offrirà al proprio pubblico una sfilata in maschera con mostri, vampiri e streghe, per divertire bambini e adulti. Tantissimi eventi a tema, una speciale rassegna culinaria, grazie alla creatività, le materie prime e la competenza dei propri operatori, rappresentanti dei sapori di tutta Italia. Nel weekend, infatti, FICO farà da teatro a decine di eventi a tema Halloween per tutta la famiglia, riproponendo l'immancabile dolcetto o scherzetto. I bambini dai 3 ai 12 anni, infatti, riceveranno all'ingresso del parco un sacchetto di Halloween per andare a caccia dei dolci più ambiti, nascosti fra le giostre e il ristorante di FICO. Per l'occasione, il frutteto di FICO si trasformerà nel parco delle zucche. Tra gli alberi del parco si terrà infatti un percorso tra giochi e natura, dove i bambini potranno scegliere la propria zucca da personalizzare in compagnia degli animatori. Spazio anche al divertimento dei più grandi, con il percorso horror allestito all'interno di una delle fabbriche alimentari del parco. All'interno di FICO, per la cena di Halloween, sarà possibile scegliere tra un'ampia scelta gastronomica, curata dai ristoranti e dai laboratori del parco con l'impiego virtuoso di materie prime tipicamente autunnali. Dallo speciale panino con zucca e crema di melograno del Consorzio della Mortadella di Bologna, al tagliere degli zombie dell'Osteria del Culatello, fino allo scary burger con pane nero al carbone e prosciutto del Consorzio Prosciutto San Daniele. E per il weekend più pauroso dell'anno, nel parco del Cibo, ci sarà una sorpresa speciale. Come ci svela l'amministratore delegato di FICO, Stefano Cigarini. La parata degli zombie, la zombie walk, animerà i weekend di FICO e le tre grandi notti di Halloween 29, 30 e 31. Decine e decine di zombie che potranno saltare fuori in ogni momento da qualsiasi punto nel parco. Non potrete stare tranquilli. Ha, 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 ha! Grazie a tutti.